Pazzarella è un giovane atelier che si trova a Pusalla, dove potrete trovare i modelli esclusivi. Scoprite il nuovo showroom di Paola e Monica, loro saranno interpretati i desideri di tutte le spose, dalle più classiche alle più romantiche e anche le più briose. Lasciatevi sedurre l'alleganza che emana un abito creato per voi su misura. La cortesia e la competenza di Paola e di Monica vi accompagneranno in una personalizzazione assolutamente esclusiva per rendere unico il vostro giorno più bello. Per l'uomo, non solo sposa presenta collezioni eleganti e raffinati, nelle quali lo stile classico si fonde con dettagli glamour e sempre la moda. Tutti i modelli sono accompagnati dai giusti accessori. Non solo sposa, a Pusalla, ringrazio e invito a tutti coloro che vorranno richiedere informazioni e dettagli dopo la sfilata, presso il sostanzo quindi al visaggio degli sposi. Ringrazio per il bouquet Piccoli Pensieri e per i gioielli Arnouveau di Maria Franca. Grazie. 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 Sì, 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 sì. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti